E qui è da. Già il nome vi può far intuire il tipo di lavoro che andremo a fare. Shaking down che significa? Significa far cadere scuotendo. Far cadere è l'obiettivo. Far cadere che cosa? I blocchi, la rigidità, tutto ciò che è ostacola il libero fluire dell'energia nella consapevolezza. Scuotere è il mezzo per risvegliare l'energia, che attraverso il suo flusso comincia a purificare questi blocchi. Tutte le tensioni, le resistenze che proviamo, sono causate dai nodi energetici, dai blocchi energetici. Quindi andando a lavorare attraverso il movimento e l'espressione, andiamo a sciogliere questi blocchi con degli esercizi particolari di cui oggi avrete un esempio. I blocchi e i nodi energetici, oltre a creare questa tensione, queste resistenze, hanno anche la capacità di magnetizzare la tensione, di fissare la tensione, che cessa di essere libera. L'attenzione è persona pura, è pura consapevolezza, è completamente libera. A causa di questi blocchi si crea come una massa magnetica che fissa la tensione e che resta là. E ci sembra di avere una visione limitata. L'attenzione cessa di essere pura consapevolezza. Attraverso questo esercizio cominciamo a percepire di nuovo il flusso libero dell'energia e l'attenzione che può finalmente osservare se stessa come consapevolezza che siamo noi stessi, noi stessi in libertà. Troviamo la posizione di gioco. Grazie.